Buonasera, questa è la quarta giornata in pillole della Serie A È la quarta giornata della Serie A Roma e Napoli, prime in classifica, è la quarta giornata della Serie A Roma e Napoli, prime in classifica, è la quarta giornata della Serie A Già, è già, è sì Quarta giornata Serie A, senza freno La Roma e il Napoli viaggiano a punteggio pieno Inter Fiorentino e Juventus sono secondi Tutte a pari merito a 10 punti Milano on va bene e subisce un arresto Ma forse per tracciare conclusione troppo presto Balza l'occhio e concludo ora qui al volo L'Inter 7 a 0 fuori casa col sassuolo